Si terrà sabato 24 marzo alle 16.30 in via Carlo Alberto dalla Chiesa un'assemblea pubblica organizzata dal Comitato di Quartiere San Luca. L'ordine del giorno prevede un resoconto degli obiettivi raggiunti e delle attività organizzate, programmi e obiettivi per i prossimi tre anni e le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo di Quartiere.